Purtroppo abbiamo riscontrato che gli asfalti per la Tireno Adriatica, che ripetiamo, è sicuramente un'iniziativa importante per la nostra città, che promuove la nostra città, però con questi asfalti di strade, tra virgolette, anche abbastanza sistemate, tolgono lo spazio a tutti quei quartieri periferici come Bellocchi, Roncosambaccio, Gimarra, San Lazzaro, Centinarola, Carrara, dove le strade sono veramente penose, quindi andiamo a togliere risorse da strade che sicuramente sono molto più urgenti per far spazio alla Tireno Adriatica, e qui per 110.000 euro. Inoltre abbiamo notato, purtroppo, che vengono spesi 36.000 euro del comune, che erano destinati per la promozione turistica, per RCS, che è l'organizzatrice dell'evento. Questi soldi, ancora una volta tolti al turismo, ricordiamo che questi 36.000 euro si paga oltre l'organizzazione più che altro la sistemazione negli hotel della nostra città, ma anche di Pesaro e di Mondolfo, degli atleti che ci saranno lunedì. Ecco, questi 36.000 euro di fatto vengono tolti, e l'abbiamo visto con il nuovo programma, l'anteprima degli eventi di quest'estate, dove non ci sono né la Fano dei Cesari né il Carnevale Estivo. Noi abbiamo provato, in sede di bilancio, abbiamo provato a fare degli ammendamenti trovando i soldi per questi eventi, che sono stati bocciati dalla maggioranza di centro-sinistra. E oggi proponiamo una nuova mozione, dove impegniamo il Sindaco e la Giunta a trovare, sin da subito, questi fondi, perché non sono eventi che possiamo organizzare all'ultimo, come è stato fatto, ad esempio, l'anno scorso o l'altro anno, perché poi vengono veramente delle schifezze. Quindi impegniamo la Giunta, sin da subito, a trovare i fondi e partire con l'organizzazione, insieme alle associazioni del territorio e della nostra città, per l'organizzazione sia della Fano dei Cesari che del Carnevale Estivo. Grazie a tutti.